buongiorno a tutti allora una nuova sessione di trading stamattina ieri come c'eravamo detti il prezzo alla fine è arrivato fino a toccare l'area del supporto della media mobile a 200 periodi avevamo venduto a 5 31 e piano 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 tutta quest'area di acquisto è stata eliminata e il prezzo si è fermato proprio sopra la media mobile intorno a 4 60 per poi rimbalzare allora vediamo qual è il trading range di giornata va da 04 60 fino a 0 5 e 10 ora cosa ci siamo detti in questi ultimi tre giorni che fin tanto che il prezzo è sopra m 21 ok c'è un pregiudizio rialzista tanto più che la media mobile a 200 periodi e sotto m 21 quindi potremmo dire senza ombra di dubbio che il prezzo sta salendo tuttavia ieri abbiamo avuto una candela nera vedete notevole che comunque si è fermata sopra il supporto principale che in questo momento sta a 04 e 45 ora quando veniamo da una giornata precedente negativa ok la resistenza principale è questa gobba vedete e questa gobba di m 21 quindi il la tendenza non è completamente rialzista ma è una tendenza rialzista tendente al alla negatività pertanto individuando questa area come trading range di inizio giornata abbiamo avuto una resistenza 0 5 0 6 una resistenza 0 5 0 6 2 una candela nera ok tanto che c'è da presupporre che il prezzo vada a ritoccare il supporto di ieri a 04 e 60 quindi per me è vende è una giornata anche questa di vendita quindi si potrebbe rendere adesso a 04 e 97 per un primo obiettivo a 04 e 80 è un secondo obiettivo a 04 e 60 ok prima di avere un nuovo rimbalzo anche se tuttavia credo che in questo in questa giornata andremo anche a ritoccare il supporto in aria 0 38 0 35 ecco qui quindi vediamoci per l'aggiornamento delle 11 un giorno di nuovo eccoci rapido aggiornamento il prezzo come vedete ha continuato a scendere eravamo entrati a 4 97 abbiamo raggiunto il primo target ok il prezzo continuerà a scendere verso la media mobile a m200 e poi via via nel corso della giornata verso 4 35 4 e 27 ecco quindi 4 27 29 cosa aggiungere che i futures in europa sono molto negativi il dax sta perdendo quasi l'un per cento quindi l'apertura dovrebbe essere negativa se guardiamo le cripto altrettanto sono negative ieri non so se vi ho parlato forse nei video precedenti che c'è una correlazione inversa tra cripto valute e dollaro cioè bitcoin scende il dollaro sale invece la correlazione è diretta con l'euro bitcoin sale euro sale bitcoin scende euro scende ok chiusa questa parentesi allora ci stiamo approssimando verso la media mobile m200 che è stato anche il minimo di ieri ovviamente una rottura di questo supporto farà sì che il cambio continui a scendere ulteriormente il sentimento oggi è negativo visto vista la candela di ieri vediamo il grafico h4 rapidamente ecco il primo supporto comunque sotto la media mobile a 21 periodi è a 0 4 55 ok dopo di che 0 4 35 e 0 4 e 25 che quindi dovrebbe essere l'ultimo target della giornata ok allora ci riaggiorniamo a più tardi eccoci anche il target 0 4 e 60 è stato raggiunto il prezzo vedete è riscivolato verso il minimo di ieri sulla media mobile a 200 le borse europee hanno aperto tutte in negativo le cripto continuano a scendere i futures americani sono negativi e quindi si continuano a scendere anche per il resto della giornata con questo obiettivo verso quest'area 0 4 25 27 a dopo eccoci all'aggiornamento delle 11 il prezzo come avevamo già recentemente verificato è andato a target appoggiandosi di nuovo sulla media mobile a 200 periodi da qui visto che quest'area ha già una e due volte fatto registrare un rimbalzo il prezzo è risalito ma è andato a sbattere di nuovo sulla resistenza più alta del l'intraday trading range ok e guardate che cosa ha creato una pin bar negativa vediamo un attimo su h4 eccolo qui bianco si vede meglio vedete anche qui una pin bar che tuttavia sta al di sotto del trading range odierno ecco al di sotto della resistenza del trading range odierno nero ecco qua vedete pertanto anche se questa è una pin bar positiva perché la spinta rialzista è chiara vedete il prezzo continua a rimanere sotto questa swing ribassista che si è creata ieri due candele nere consecutive che quindi di fatto creano questa resistenza molto forte che già due volte stata ha fatto da argine al prezzo e il prezzo adesso scenderà di nuovo torniamo al grafico a 30 minuti eccolo qui quindi questo è un è un altro ingresso ribassista da qui si può vendere di nuovo per tornare giù poi 35 poi 22 27 questa o questo è il mio target di fine giornata ok benissimo allora noi ci aggiorniamo a questo punto alle 15 per la sessione americana l'inizio della sessione americana e buon pomeriggio di nuovo eccoci nell'aggiornamento delle 15 c'è stato un reversal app il prezzo ha trovato supporto di nuovo sulla media mobile a 200 a riprova del fatto che la media mobile a 200 se non viene violata è molto molto solida e infatti il prezzo ha ripercorso tutta la strada di ieri e forse sta andando a fare un doppio massimo gli indici a wall street dovrebbero partire in negativo i futures sono negativi allo stesso modo di ieri in europa anche profondo rosso il dax quasi meno 1 e 8 il bitcoin è leggermente risalito ed è tornato in verde rispetto all'apertura di ieri ora se il massimo di ieri a vediamo a 05631 dovesse essere violato quindi rottura con 2,1 pips in più probabilmente il cambio potrebbe salire ancora verso vediamo 1 1 5 e 94 5 87 5 94 io sono scettico ed effettivamente ripeto continuano a non esserci le condizioni per questo rimbalzo e il prezzo è tutto a favore del dollaro nonostante appunto questa spinta ulteriore di oggi volevo introdurvi alle aree di vendita e di acquisto guardate quest'altro grafico eccole ieri c'era quest'area di vendita di acquisto perdone verde vedete è stata molto forte oggi l'area di vendita era quella dalla quale stamattina abbiamo venduto area di vendita che effettivamente è stata violata al rialzo vedete e ci sono anche state due candele verdi consecutive sopra quest'area che di fatto la fanno diventare in questa zona supporto ora vediamo se che cambia il verso Wall Street e torna a rimbalzare dopo il meno 5 di ieri del Nasdaq io ripeto ho venduto qui sul massimo 0,550 mi riaspetto questo supporto a 0,512 e una chiusura negativa anche oggi per lo meno superiore a M2 perché abbiamo avuto un reversal up qui sulla rottura della zona di vendita a 0,514 questa zona di vendita con la rottura dello stop loss a 0,514 ha visto una nuova swing rialzista vedete? una nuova alta lena nonostante la resistenza fosse posta in questa area la candela successiva ha rotto a rialzo anche questa resistenza e siamo andati verso la seconda resistenza daily dei pivot point giornalieri la resistenza era 0,595 il massimo è stato 0,592 ora questa fiammata si è avuta a causa della debolezza di alcuni dati macro americani come i nuovi contratti di acquisto per la casa i sussidi di disoccupazione che sono aumentati e per un rimbalzo tecnico dati minimi dal 2016 a 0,348 che abbiamo avuto la scorsa settimana ora la continuazione della giornata fuori di dubbio rialzista dovremmo toccare probabilmente domani un massimo sotto 6,30 che è una fortissima resistenza dalla quale probabilmente ripartirà tutta tutta la discesa verso 0,350 il minimo di quest'anno vi saluto per il momento a domani qui non 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 non